Siamo alla Teatro Diana con il patron Lucio Mirra, un libro importante che racconta 50 anni di storia del teatro in generale, non soltanto della Teatro Diana. Sì, indubbiamente la mia vita teatrale è cominciata nel 1964, ecco i 50 anni, 64 nel 2014. In realtà io ho cominciato, laureato in giurisprudenza, ho cominciato a fare l'avvocato, quindi è un tutt'altro mestiere. Quindi possiamo dire che lei è un prestato al teatro, come si usa a dire adesso, prestato alla politica, lei è stato prestato al teatro, però poi è uscito veramente bene insomma questo mestiere. Difatti l'ho fatto per due o tre anni, prima in uno studio privato e poi all'ufficio legale della Tirrenia di Navigazione. Se non che poi sposata mia moglie che era proprietaria del teatro Diana e morto anche lo zio, dopo il padre che era già morto da parecchi anni, morto anche lo zio, la suocera tenne in mano il teatro per sei mesi, un anno, dopodiché mi chiamò e disse io non ce la faccio, ero anche anziano, non ce la faccio da solo, aiutami. E da allora sono entrato in questa attività che per me era completamente nuova perché appunto facevo tutt'altra attività. E quanto è stato difficile entrare in un mestiere che non si conosce, tra l'altro un mestiere complicato, perché gli artisti sicuramente non sono persone facili da gestire? Infatti i primi giorni, i primi anni diciamo sono stati un po' difficili perché bisognava cercare di entrare nei meccanismi del cinema e del teatro perché allora il Diana faceva cinema e alternava il cinema al teatro e niente, a poco a poco ci sono riuscito e mi sono anche appassionato, tanto è vero che dopo alcuni anni abbiamo cominciato ad ospitare le prime compagnie, vedi, scansonatissimo con Alighiero Noschese, Nino Taranto che veniva qui quasi ogni anno con due o tre commedie, Peppino De Filippo con le sue commedie, molti per esempio anche cantanti, è venuto qui Cocciante, Baglioni, Asnavur, facemmo una serata con Asnavur che fu eccezionale perché mi ricordo che per la prima volta a Napoli mettemmo il prezzo di 100 mila lire, le vecchie lire, le vecchie lire, e così anche Gianni Morandi, Amanda Lear, Amalia Rodriguez insieme a, penso fece uno spettacolo, Amalia Rodriguez insieme a Murolo, vabbè oltre che Peppino Di Capri, Venditti che fu una serata memorabile quella di Venditti perché allora Venditti era prima maniera, cioè il Venditti rock e quindi erano gli anni 70 e quindi ci furono le contestazioni, contestazioni così forti che portarono a quasi una rivoluzione perché volevano entrare gratis perché c'era allora un'associazione nel periodo appunto della contestazione che pretendeva che la musica doveva essere data gratuitamente, si chiamava Renuto, mi ricordo questa associazione, noi non lo permise, anzi David Zard che era il suo manager di Venditti non lo permise e intervenne la polizia, la polizia ci consigliò di chiudere le salcinesche, non l'avessimo mai fatto, si avventarono contro le salcinesche questi forsennati, tanto vede che le salcinesche crollarono, per cui la polizia disse fatevi entrare lo stesso perché altrimenti qui succede qualcosa di grave, li facemmo entrare, si è detto tutti per terra e continuiamo lo spettacolo con Venditti. Quante sono le compagnie che hanno calcato le scene del Teatro Diana? Finora ho fatto il conto che sono più di 400 le compagnie in questi 50 anni e poi noi abbiamo prodotto, perché siamo anche produttori di spettacoli. Infatti ricordiamo che il Ministero recentemente ha riconosciuto al Teatro Diana il centro di produzione, che questo è un importante riconoscimento a livello nazionale. Certo, è un importante riconoscimento perché diciamo che lo meritiamo, perché dopo 50 anni appunto pensiamo che tra l'età non ci avevano riconosciuto inizialmente, si sono avveduti dello sbaglio e ci hanno riconosciuti. E quante produzioni? Produzioni, c'è più di 120 produzioni che abbiamo fatto. Abbiamo fatto con attori famosi come i fratelli Giuffre, Lina Sastri, Luigi De Filippo, poi ancora Pubella Maggio e ultimamente con Vincenzo Salemme, Casagrande, Maurizio Casagrande, Carlo Bucci Rosso. E quest'anno con Gullotta? E ora quest'anno sì, iniziamo con Gullotta, il quale dopo il fallimento dell'Eliseo, perché lui stava con il Teatro Eliseo di Roma, ha preferito venire da noi per essere prodotto e facciamo uno spettacolo molto divertente che è Spirito Allegro. Qual è il ricordo che più porta nel cuore di questi 50 anni? Ma io credo l'anno in cui venne Marcello Mastroianni, per due ragioni, innanzitutto perché era un evento, far venire qui a Aldiana Marcello Mastroianni era come diciamo nel libro, è come avere un ragazzo che va male a scuola e poi dopo riesce a laurearsi con 110 all'ODA. E noi in quel momento avevamo la massima considerazione e quindi quando venne Marcello Mastroianni per noi fu davvero una grande festa. E poi perché Marcello era una persona carissima, stava male, molto male, specialmente perché tornò due volte. La seconda volta dovevamo portare l'abbraccio in palcoscenico perché non ce la faceva, però aveva poi questa forza che si metteva appoggiata a una sedia e poi sulla poltroncina e continuava a recitare e il pubblico non si accorgeva di niente. Dopo l'ultimo spettacolo, quello che ci chiese di anticipare al sabato lo spettacolo della domenica perché doveva partire per Parigi perché diceva lui mi devono operare, invece purtroppo dopo dieci giorni morì. Cosa racconta in questo libro e soprattutto ci sono anche aneddoti particolari? E a chi lo dedica questo libro? La dedica l'ho fatta a mia moglie Mariolina perché è stato oltre che ai miei tre figli, Guglielmo, Giampiero e Claudia. È un libro che mi è stato sollecitato da parecchi amici conoscenti ai quali raccontavo degli episodi, degli avvenimenti, delle curiosità e molti di questi mi hanno detto ma perché non le scrivi queste cose perché altrimenti non resteranno più. In effetti un libro su 50 anni di teatro italiano, perché insisto che sono 50 anni di teatro italiano, non c'è, non è mai stato fatto. Per cui queste persone mi hanno sollecitato. Ho avuto l'appoggio di due giornalisti, qui ringrazio Luciano Giannini e Anita Curci, l'appoggio anche di Aldo Putignano, che è un bravissimo editore, giovane, molto attivo con Homo Scrivens. Quindi anche con l'appoggio e lo sprono di questi è uscito questo libro. Un libro ricco anche di tantissime fotografie che ricordano i momenti importanti che ha vissuto il teatro in generale, il teatro diana in particolare. Il teatro diana continuerà ad essere un punto di riferimento anche culturale al di là del teatro? Certo, delle fotografie devo dire che noi ce ne abbiamo quasi 500 di fotografie e quindi ho dovuto prendere una piccola parte delle foto che abbiamo, un'ottantina, perché non era possibile metterle tutte. Ci sono comunque la maggior parte degli attori importanti che sono venuti qui. Per quanto riguarda la continuità lo stiamo facendo, perché in questi ultimi anni addirittura abbiamo incrementato il numero di spettatori, abbiamo incrementato il numero di abbonati. Siamo i primi in Italia come numero di abbonati, 10.500, e questo ci riempi di gioia. Un'altra cosa bella del teatro diana che mi piace ricordare è che voi aprite il teatro anche alle scuole, ai ragazzi e ai bambini e diventano proprio strumento di discussione gli argomenti che vengono trattati. Proprio questo. Noi da 10 anni a questa parte abbiamo iniziato a fare questa operazione di spettacoli per le scuole, ma non i soliti spettacoli di Pirandello, Shakespeare, che poi ai ragazzi finisce per interessare poco e fanno solo un buina quando vengono. Invece abbiamo creato un nuovo sistema, facciamo degli spettacoli di attualità. Abbiamo fatto quello sulla Mortisiani, quello sulla Camorra, ora sulla Terra dei Fuochi e poi innanzitutto facciamo in modo che gli insegnanti preparino prima questi ragazzi a quello che vedono. Poi successivamente, alla fine dello spettacolo, facciamo dei dibattiti tra insegnanti, alunni e delle volte anche estranei, sono venuti magistrati, è venuto Giancarlo Caselli, è venuto Tano Grasso e tanti altri giudici del Tribunale di Napoli. E facciamo questo confronto che è molto interessante perché gli alunni si rendono conto di quello che hanno visto e del problema che devono affrontare. Quanto la televisione ha danneggiato il teatro di qualità se l'ha danneggiato? Sì, io sostengo di sì che l'ha danneggiato perché delle volte vedo i cartelloni delle stagioni degli anni Ottanta e vedo una serie di spettacoli, chiamiamoli un certo impegno, spettacoli che oggi sarebbero quasi improponibili perché il gusto del pubblico mano a mano è calato di molto e questo io lo attribuisco alla televisione, un po' becera che spesso viene fatta e cerchiamo di resistere a questo. Per avere una vita così lunga nell'ambito della professione, 50 anni sono tanti, c'è bisogno di programmazione e professionalità? Assolutamente, noi abbiamo, quando creiamo una compagnia, quando produciamo una compagnia, il lavoro comincia molti mesi, addirittura qualche anno prima a pensare al testo, al tipo di spettacolo, poi d'accordo con il primo attore, d'accordo con il regista, l'impostazione che bisogna dare allo spettacolo, poi cominciano le prove che durano 30-40 giorni, le prove a tavolino, poi le prove, è tutto un susseguirsi, poi dobbiamo organizzare le cose, trovare le piazze per la compagnia una volta fatta, organizzare gli alberghi, i ristoranti, il trasporto delle scene, creare i costumi, creare l'apparato fonico, è tutto un lavoro che si sviluppa nell'arco di due, tre mesi, quattro mesi, e devo dire che mio figlio Giampiero in questo è diventato un tecnico eccellente, infatti molti chiedono a lui i consigli, dopodiché si va in scena, quando si va in scena quello che vede lo spettatore, cioè lo spettacolo e basta, non sa poi che dietro quello che c'è stato, il lavoro che c'è stato, le titubanze degli attori, le paure, tutto questo, lo spettatore vede il prodotto finito e basta, applaude, fischia, però per lui è solo quello. Noi la ringraziamo infinitamente per questi racconti che racchiudono 50 anni di storia, auguriamo al Teatro Diana e a Lucio Miri in particolare tanti anni ancora di successo e professionalità. Speriamo, io sto qui, io resisto fin quando è possibile. Grazie a tutti.